Urne aperte, tempo di elezioni, weekend di regionali. Si vota in Emilia-Romagna e in Umbria Nella prima regione, storica Roccaforte-Rossa, il duello sarà tra Michele Dei Dascale per il centro-sinistra ed Elena Ogolini, candidata del centro-destra Dunque in Umbria la sfida è tra la presidente uscente Donatella Tesei, che cerca il bis con il centro-destra, e per il centro-sinistra la sindaca di Assisi, Stefania Proietti Le urne si chiuderanno lunedì alle 15, dunque lo spoglio.I alle 12 di oggi, domenica 17 novembre, come di consueto ecco filtrare il primo dato dell'affluenza, che risulta essere in calo rispetto alla precedente tornata in entrambe le regioni Per l'Emilia-Romagna, il dato alle ore 12 è del 10,09%, in calo rispetto all'affluenza del 2020, quando alle 12 si era recato a esseggi il 23,44% degli aventi diritto Nella mattinata di domenica si sono recati ai rispettivi seggi il candidato del centro-sinistra Michele Dei Dascale e la candidata sostenuta dal centro-destra Elena Ogolini Punto dunque il primo dato disponibile anche per l'Umbria, dove alle 12 l'affluenza registrata era del 6,85%, in calo rispetto al 2019, quando alle 12 si era fermata al 19,55% Tuttavia, a differenza delle precedenti elezioni regionali che si svolsero in un'unica giornata, i seggi come detto resteranno aperti anche domani fino alle 15 Certo però che il calo appare profondo, significativo, anche in considerazione del fatto che la gran parte degli elettori, di consuetudine, esercita il proprio diritto al voto proprio alla domenica E il dato relativo alla bassa affluenza, in Emilia-Romagna, in questo caso potrebbe favorire il centro-destra, in controtendenza rispetto alla consueta lettura delle cifre relative all'astensionismo Infatti, secondo gli analisti, una bassa affluenza in Emilia-Romagna potrebbe essere figlia della recente alluvione, a non recarsi alle urne potrebbero essere in primis gli elettori di centro-sinistra, che potrebbero aver bucciato la gestione dell'emergenza Inoltre, anche quanto accaduto recentemente in Liguria, dove con la complicità della bassa affluenza il centro-destra ha sovvertito i pronostici finendo col vincere la disputa elettorale, è un segnale che dalle parti del centro-destra viene intercettato con ottimismo Grazie Grazie